Buonasera Tavon Sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Coda per incidente sulla A11, un chilometro, per fortuna la causa è risolta tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Pedoni segnalati in A1 tra Incisa Reggello e Baldarno verso Roma. Personale su strada per lavori anche sulla Firenze e Pisa Livorno, tra Lavoria e Vicarello in direzione a Livorno. E c'è ancora una coda all'Astra Segna, sempre sulla Fipili in uscita da Firenze. Lavori a Firenze in via delle Panche iniziano lunedì quelli per un nuovo annaccio alla rete idrica fino al 22 novembre, chiuso il tratto tra via Santo Stefano in pane e via Reginaldo Giuliani. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi. Grazie a tutti.